Con la nuova app MySky, hai tutti i servizi Sky in un'unica app. Con Guida TV sei sempre aggiornato sulla programmazione. Puoi impostare un pro memoria o una registrazione. Nel fai da te, gestisci facilmente il tuo abbonamento. Nella sezione extra, scopri i vantaggi pensati per te. E se hai bisogno di assistenza, qui hai tutte le risposte. Forte la nuova app MySky. Mi piace, Guida TV, extra, fai da te, assistenza. Tutto semplicemente a portata di mano. Scaricala anche tu.